Un nuovo appuntamento curato dall'Associazione Cultura Nazionale, questa volta appuntamento con il caso Pantani doveva morire, dove e quando? Sabato 28, sabato prossimo alle ore 17 alla Edison Libreria in Piazza Risorgimento, un caso che ha appassionato tutti gli italiani, un caso di suicidio al quale non crede nessuno, come non crede nessuno i tanti suicidi che ci sono susseguiti in Italia di persone più o meno famose che dovranno coprire qualcosa. La cultura nazionale inaugura un nuovo filone, il filone tra virgolette dei misteri italiani, Pantani è uno di quelli ma ce ne saranno tanti altri, quindi iniziamo con sabato dove verrà il criminologo e scrittore Luca Steffenoni che con il suo libro ripercorre tutta la vicenda fino all'epilogo tragico e all'autopsia, che quella svela tutto, quindi nessuno crede al suicidio di Pantani, quasi tutti a ragione veduta credono all'omicidio. La magistratura è archiviato ma con il libro verranno fuori tutte queste cose e la gente si convincerà che non è stato un suicidio ma un omicidio. Perché la storia d'Italia è costellata da tanti misteri, forse troppi, Pantani, Davide Rossi del Monte dei Paschi, i magistrati, Borsellino, ecco tutti questi personaggi più noti che hanno, come dire, impresso la pellicola della cultura, dello sport e della politica italiana, diciamo che hanno inciso la memoria nostra. Noi come cultura nazionale ci ne occuperemo.